Carissimi, siamo qui al Palazzo Minerva di Minervio per presentare la quinta edizione del concorso pianistico internazionale Città di Minervio. Questa manifestazione è antica, nasce nel 2001 dalla collaborazione tra Associazione Amici della Musica, Scuola di Musica di Dupré e l'amministrazione comunale di Minervio. Si presenta quest'anno in modalità dal vivo e questa è una scelta precisa per dare l'opportunità ai candidati di ritrovare il contatto con il pubblico, cosa che in questi ultimi anni purtroppo ci è stata legata quasi del tutto. Sappiamo quanto per i pianisti e i musicisti in generale è fondamentale il contatto del pubblico, tante tante ore di studio, tanto lavoro a casa e finalizzato alla comunicazione, a poter dire qualcosa di fronte a colui che ci ascolta. In questo caso avremo una giuria di eccezione che valuterà gli studenti preseduta dal maestro Riccardo Risaliti e poi avremo anche tante altre occasioni offerte a candidati di esibirsi in pubblico durante i giorni del concorso in manifestazioni nel territorio. Naturalmente il tutto si svolgerà nella massima sicurezza perché saranno applicati tutti i protocolli covid, però dobbiamo restituire ai musicisti l'opportunità di suonare dal vivo.